Siamo Sandro, viene qui da quando aveva due anni, quindi? Tre, tre anni avevo. E quanti anni sono che viene al mare da Tarci? Quattro. E' vero che non hai mai pagato il lettino? No, mai, ho preso anche tre sedie. Perfetto, dopo mi spieghi come hai fatto perché a me mi fa sempre pagare quel porco. Io metto sul tuo conto. Ah, ecco perché, ti metti sul mio conto, ho capito, ho capito, ho capito. Senti Sandro, e come mai vieni ancora in mancanza qua che si sta malissimo? Perché è gratis, non pago il lettino. Ah beh, giusto, è vero, è vero, è vero, ho capito, ho capito. Signori Sandro!